Dovrebbero partire a giorni, forse anche nelle prossime ore i lavori per la sistemazione del lotto del lungo lago che va dai giardini a lago fino alla zona di Piazza Cavour. Lo vedete in queste immagini, una zona che al momento è ancora abbandonata al cantiere delle Paratie, ma che presto avrà una nuova veste, una nuova luce, soprattutto grazie agli amici di Como, al consorzio Como Turistica che, come Gianluca Zambrotta due anni fa, riapriranno questo tratto di passeggiata che vedete appunto nelle immagini dai giardini fino a Piazza Cavour, rendendolo vivo per tutto il periodo estivo. Di fatto ieri il Comune e la Sakaim hanno dato le chiavi di questa zona, le chiavi della cantiere, diciamo così, ai coordinatori di Como Turistica. I lavori, come detto, dovrebbero partire a breve, già in questi giorni. Apertura a luglio.